I furbetti dei rifiuti sono sempre scatenati, ma stavolta hanno preso una bella sberla. I carabinieri forestali di Asolo e il comune di San Zenone degli Ezzelini sono risaliti all'identità degli autori dell'abbandono dei rifiuti lungo via Viazza e in altre zone del paese. La segnalazione era arrivata prima di Natale e riguardava un vero immondezzaio diffuso che comprendeva pneumatici e sacchi di materiali di vario genere. I rifiuti erano stati rimossi e i carabinieri avevano dato il via a un meticoloso lavoro di indagine, selezionando e analizzando minuziosamente il contenuto dei sacchi, fino ad arrivare a identificare i responsabili. Il sindaco Fabio Marin si rallegra per questa operazione e annuncia il pugno di ferro verso chi continua a insozzare San Zenone. Presto verrà attivata anche una fototrappola mobile che verrà assegnata alla polizia locale per combattere l'incivile fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.